ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella rosa il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono farina di libo doppio zero amido di mais zucchero uova panna fresca per dolci latte intero liquore al kermes lievito per dolci vanillina essenza d'arancia e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla versiamo le uova lo zucchero e facciamo montare per 10 minuti a velocità 4 versiamo il latte la panna e il liquore facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3 rimuoviamo la farfalla dal boccale aggiungiamo la farina l'amido di mais la vanillina l'essenza d'arancia il pizzico di sale e il liquido per dolci facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 il composto è pronto trasferiamolo in una stampa a ciambella del diametro di 24 cm ben imburrato o un tocolo stanca a tè per teglie cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 40 minuti circa verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo ciambella rosa grazie e alla prossima ricetta grazie grazie